Il Gladiator rispetta il fattore campo e batte di misura il Monospolis al termine di una gara molto tattica. Ha vinto però la squadra che ha prodotto di più nel poco che si è visto in zona conclusiva. Il Gladiator parte con Leone e Franchini sulla destra e l'altro Under Viglietti in panchina, in attacco Mazzeo, Manzo e Longo. Partita da batticuore per Mario Terracciano, ex del Monopoli. I nerazzurri iniziano forti, in otto minuti si contano diversi episodi dubbi in aria. Al primo del Sorbo viene atterrato in maniera plateale, tirato per la maglia, l'arbitro lascia proseguire. L'azione va avanti, diagonale di Manzo che finisce fuori. L'arbitro fischia poco e lascia correre su un altro contrasto tra delle Sorbo e il portiere Giannuzzi. Manzo al venticinquesimo prova con una punizione dal vertice sinistro dell'aria. Un minuto, ci tenta, Franchini da fuori, su sponda di Del Sorbo. Il primo pericolo per la porta di Maiellaro arriva su punizioni di Pereira al trentanomesimo, il piazzato però è alto. Nella ripresa prova antivia, il gladiator trova il gol. Punizione di Manzo dalla tre quarti, Del Sorbo salta più in alto di tutti e in torsione prende in controtempo di Gennaro che non arriva a salvare il risultato. Il piccirillo esplode per l'1-0 nerazzurro. Del Sorbo si becca il giallo per l'esultanza alla sua quinta rete stagionale. Al 61esimo su una conclusione di un centrocampista del Monopoli, Pereira si gira al volo tenta il colpaccio chiamando all'ennesimo intervento Maiellaro che salva con la coscia. Due minuti il gladiator resta in dieci, Del Sorbo ingenuo ad aggiustarsi la palla con la mano meritando il secondo giallo. Ma al 65esimo la parità numerica si ristabilisce. Su un calcio di punizione Montaldi colpisce con una manata il suo marcatore e Bercighi a pochi passi gli sventola in faccia il rosso diretto. 79esimo è alto lo sciutto di Mastropasqua. I nerazzurri si difendono bene mentre gli attacchi a ospiti sono per lo più confusi. Tre minuti dopo contro piede gladiator go buona volontà che serve Mazzeo. Dal limite fa partire una palombella che per poco non beffa il portiere. In pieno recupero al 91esimo ripartenza veloce di Gatta che vede Mazzeo libero. Tiro della punta nerazzurra e grande parata di istinto di Di Gennaro che sbarra la porta. Sul tapin di testa Mazzeo sfiora la traversa. Forcing finale all'arma bianca del Monopoli e arriva il triplice fischio al 95esimo con la corsa forse nata di Isquillante per abbracciare il DS Governucci. Il gladiator conserva la vetta appaiato con l'ischia e il sogno continua.